4 marzo 1871 nasce la Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni. L'intento del Comitato Promotore era quello di offrire a Valtellinesi e Valchiavennaschi la possibilità di ottenere credito a un interesse onesto, contribuendo a debellare il fenomeno dell'usura all'epoca diffuso in provincia. Una leva che innescò lo sviluppo economico del territorio, incoraggiando l'avvio di tante piccole attività produttive. L'Istituto di Piazza Garibaldi oggi arriva al traguardo dei 150 anni costellati di grandi cambiamenti, ma sempre in coerenza con la missione originaria, ovvero il sostegno al tessuto delle famiglie e delle piccole imprese e il forte legame alla terra di origine. Per un secolo Banca Popolare di Sondrio ha circoscritto la sua azione alla provincia, arrivando a contare nel 1970 20 sportelli. Poi, su impulso del direttore generale ed in seguito presidente Piero Melazzini, il salto di qualità, la ricerca di nuovi orizzonti a Milano e in Lombardia. Nel 90 l'apertura a Roma, nel 95 la costituzione a Lugano di BPS Swiss, preludio a una crescente vocazione internazionale, che vede la banca sviluppare servizi sempre più rispondenti alle esigenze delle aziende clienti. A cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio e la rivoluzione di internet, ha visto la banca sviluppare innovativi servizi di e-banking con il portale Scrigno, una filosofia di sviluppo graduale e costante, che oggi vede Banca Popolare di Sondrio, guidata dal presidente Francesco Venosta e dal consigliere delegato Mario Alberto Pedranzini, presente in sette regioni italiane con quasi 350 sportelli, forte di oltre 3.300 dipendenti e di una compagine sociale di oltre 161.000 soci. La lunga crisi economica dell'ultimo decennio e più di recente l'emergenza sanitaria hanno rafforzato il ruolo centrale della banca nel sostegno all'economia reale dei territori. Anche nel 2020 i risultati sono stati positivi, lo dimostrano l'incremento del 50% di nuove erogazioni rispetto al 2019 e l'utile netto di 106 milioni. Il nostro modello di business ha dichiarato di recente Pedranzini nel presentare i risultati consolidati del 2020 approvati dal Consiglio d'amministrazione ed ha sempre fortemente focalizzato sui bisogni di famiglie e imprese. In ambito creditizio stiamo lavorando in una visione di più lungo termine per privilegiare investimenti orientati alla sostenibilità.